mi dicono che possiamo partire ok pomeriggio a tutti quindi e benvenuti anche a nome di vittorio colomba questo nostro primo dialogo dal titolo modelli due tre uno dv e sistema penale l'organizzazione aziendale tra forma e sostanza permettetemi di ringraziare in primis i nostri autorevolissimi relatori francesca puglisi sottosegretaria di stato per il lavoro e le politiche sociali che sarà a breve con noi tommaso fabbri professore ordinario presso il dipartimento di economia marco biagi dell'università degli studi di modena reggio emilia e luca lupari adonati professore ordinario presso il dipartimento di giurisprudenza dell'università degli studi di roma 3 permettetemi altresì di ringraziare in apertura per aver creduto in questo nostro progetto e per aver conseguentemente sostenuto questo nostro progetto il consiglio nazionale forense le università degli studi di modena e reggio emilia di roma 3 di salerno il crid dell'università degli studi di modena reggio emilia e la fondazione marco biagi nella nostra ottica a caratterizzare questi nostri primi tre dialoghi esplicitamente ovvero implicitamente la parola attualità attuali infatti ci sono sembrati i problemi del mondo dell'economia e del mondo delle imprese ma apparimenti attuali ci sono sembrati perché in effetti a ben guardare lo sono i problemi inerenti i dati personali e le discriminazioni di genere perché sono questi problemi sono questi alcuni dei problemi oggettivamente propri delle aziende e delle persone fisiche che dell'attualità sono figlie e che nell'attualità in questa così complessa nostra attualità si trovano oggi ad operare e a vivere in quest'ottica a legare quindi tra loro temi economia imprese dati personali e discriminazioni di genere apparentemente stravaganti è proprio l'attualità un'attualità che così impostata la questione fa di questi temi temi solo apparentemente distinti e solo apparentemente distanti tra loro di dati personali di quello che è il vero prezzo dei dati personali parleremo il 18 dicembre sotto la regia di Vittorio Colomba e in quella sede ci interrogheremo su quanto valgano i nostri dati su chi accumuli i nostri dati e su quali strumenti vengano usati per accumulare i nostri dati più in generale in quella sede ci potremo chiedere chi siano i cosiddetti data broker e quale sia il loro effettivo ruolo in giunti giustamente viene definito il commercio del nuovo petrolio di discriminazioni di genere e di quelle che sono le discriminazioni di genere tra attualità ed esigenze di tutela invece parleremo il 15 gennaio sotto la regia di Elena Lenzini prendendo atto del fatto che ancora oggi viviamo una società e in una società nell'ambito della quale la disuguaglianza di genere sembrerebbe penalizzare la donna da tutti i punti di vista. Perché dialoghi? perché dialogare in chiave politica e mi permetto di usare qui l'aggettivo politico in senso lato ovvero in senso alto significa confrontare le proprie opinioni significa confrontare le proprie opinioni in vista di un'intesa e in questo senso non è un caso che questi nostri primi tre dialoghi recchino tutti quale sottotitolo diritto economia e istituzioni a confronto. In effetti accade sovente anche nel mondo della pratica del diritto che ad incontrarsi siano diritto e istituzioni ma accade molto più raramente soprattutto nel mondo della pratica del diritto che ad incontrarsi siano diritto ed economia. Eppure a nostro avviso le connessioni tra diritto ed economia sono evidenti. Basterebbe considerare in proposito che l'economia rappresenta a sua volta una fetta tra virgolette importante della realtà. Ciò che innegabilmente influenza in modo peraltro significativo tutti i fenomeni che il diritto per sua natura è chiamato a disciplinare. E dico che il diritto per sua natura è chiamato a disciplinare perché questa è certamente la funzione principe del diritto. Il diritto esiste in primis per disciplinare, per disciplinare la vita degli uomini e per disciplinarne le condotte. E in questo senso potremmo dire che il diritto costituisce il fondamento della società nonché lo strumento chiamato a perimetrare l'organizzazione della società. Ma l'organizzazione della società vuole certezze. L'organizzazione della società necessita di certezze. Perché la certezza rappresenta la principale necessità che è propria di un'ordinata vita sociale? E perché da un certo punto di vista la certezza parametra una vera e propria garanzia di libertà? Probabilmente l'unica garanzia che può davvero assicurare una pacifica convivenza tra i consociati. Certezza tra l'altro è concetto che nella mia ottica richiama quello di modello. Se per modello intendiamo fare riferimento all'oggetto ovvero al termine atto a fornire un conveniente schema di punti di riferimento ai fini della riproduzione o dell'imitazione. La nostra stessa vita a ben guardare è tutta fatta di modelli fondamentalmente perché la volontà umana è frutto di ragione e non di arbitrio. E proprio per questa ragione l'uomo è tradizionalmente incline a riordinare la realtà pratica e a farlo secondo modelli, modelli di comportamento. Anche oggi parleremo di modelli e più specificamente di modelli organizzativi e gestionali ex decreto legislativo 8 giugno 2001 numero 231. Ma parleremo di modelli, questo è il punto, che per poter funzionare davvero devono essere calati nell'ambito di una preesistente organizzazione, di quella che è appunto l'organizzazione aziendale. Vale a dire un'organizzazione che come ci ricorda lo stesso abstract del presente dialogo non è e non può essere un fenomeno statico. Non è un fenomeno statico perché è fatta di e da uomini e donne, non è un fenomeno statico perché per sua natura è adattiva, ma soprattutto io credo, e questa è la ragione per la quale i nostri dialoghi hanno voluto aprire anche alle istituzioni, non è e non può più essere un fenomeno statico perché anche le aziende sono figlie della realtà. E questa realtà, questa nostra realtà, è certamente figlia di un'epoca storica sui generis, nell'ambito della quale oggi è a comandare sempre più essere questo virus con la corona. Che da un certo punto di vista, su questo credo avesse ragione Edward Lutbach quando già a febbraio sottolineava il dato, null'altro rappresenta se non il virus della verità. Perché da questo punto di vista verrebbe da dire che il virus con la corona null'altro ha fatto se non accelerare la deflagrazione di vecchie nuove tensioni, anche di natura sistemica, che sarebbero comunque presto o tardi state destinate a deflagrare. Vecchie nuove tensioni che a loro volta hanno generato, ma credo che oggettivamente sarebbe più corretto dire, hanno aggravato una già esistente incertezza. Una già esistente incertezza in chiave politica, una già esistente incertezza in chiave sociale e dunque evidentemente è anche una già esistente incertezza in chiave vuoi giuridica, vuoi economica. Oggi, a me questo sembra un fatto in quanto tale non revocabile in dubbio, a dominare la scena non solo italiana è innegabilmente l'incertezza. Un'incertezza che è e che sa essere devastante da tutti i punti di vista. ma forse anche un'incertezza, e questa è la vera ragione per cui abbiamo voluto dialogare anche con le istituzioni di diritto di economia e di istituzioni appunto, che potrebbe recare seco anche cose buone. Se fosse vero che non tutti i mali dovrebbero venire per nuocere, oggettivamente questo potrebbe essere il momento per iniziare a ripensare in chiave appunto giuridica, economica e istituzionale i tradizionali modelli politico, economico e sociale che ci hanno accompagnato fin qui. Buonasera sottosegretaria, benvenuta. Eccomi. Buonasera. Buonasera, chiedo scusa in ritardo ma non mi avevano girato, cioè non voi, ma la mia segreteria non mi aveva girato il link, mi scuso. Eccomi. Buonasera, benvenuta. Sì, grazie. Perché sono modelli, questi tradizionali modelli che ci hanno accompagnato fin qui, che quando il mondo correva nessuno aveva tempo e voglia di fare oggetto di critiche e riflessioni, ma probabilmente sono anche modelli che critiche e riflessioni avrebbero meritato a prescindere dalla pandemia. Esistono modelli giuridici, oggi parleremo appunto, ripeto, di quello passato in rassegna dal decreto legislativo numero 231 del 2001. Esistono modelli economici, esistono modelli politici ed esistono modelli aziendali, ovvero modelli che per loro natura sono costruiti a partire da matrici appunto giuridiche, economiche e politiche. Diritto, economia e istituzioni quindi che dialogano insieme per confrontare le proprie opinioni nel tentativo di trovare un'intesa. Un'intesa, per quel che qui importa, capace anche di sintetizzare tra loro quelli che per venire al tema di oggi sono gli inevitabili scostamenti tra forma e sostanza che inulottabilmente si registrano nella gestione anche quotidiana delle imprese. Questo è un po' il quadro di insieme sul quale abbiamo voluto chiamare a confrontarsi i nostri autorevolissimi relatori e se è d'accordo, sottosegretaria, partirei da lei con una considerazione che è presto fatta. Stiamo vivendo, questo è un fatto, un momento di grande incertezza, dicevo poc'anzi, e anche di grande difficoltà. Di grande difficoltà a livello globale, essendo necessario oggi combattere Covid-19. E da questo punto di vista credo che non sia un ford'opera a parlare di sfida, una vera e propria sfida che ha condotto noi tutti a cambiare pressoché in tempo reale, pressoché tutte le nostre abitudini. Così è stato anche per quanto riguarda il mondo del lavoro. Che è un mondo, mi sembra di poter dire, che certamente ha subito danni ingenti, che forse oggi non sono ancora facilmente quantificabili, ma che nello stesso tempo mi sembra abbia subito anche un'accelerazione in termini di innovazione. Penso ad esempio allo smart working, che certamente, nel bene o nel male, questo se lo dirà lei, ha cambiato il modo di lavorare. Penso ad esempio alle riorganizzazioni aziendali, che certamente hanno condotto alla salvezza tante aziende e alla salvezza di tante aziende. Se questo è il quadro, allora le chiedevo come intende procedere il governo in tema di innovazione, per quanto riguarda il mondo del lavoro e più in generale per quanto riguarda lo smart working, ma soprattutto la riorganizzazione aziendale. E soprattutto le chiedevo se, secondo lei, questa riorganizzazione aziendale, nel momento in cui viene intrecciata col mondo del lavoro, è qualcosa che è in grado di salvare o meno anche posti di lavoro. Perché, concludo con una provocazione che non posso non lanciarle, avendo la fortuna di averla nostra ospite oggi a Modena, è evidente che anche da parte nostra la curiosità che sorge è quella di capire quando cesserà il blocco dei licenziamenti, che prima o poi dovrà necessariamente cessare, se a fronte della cessazione dell'anzi detto blocco è ragionevole paventare un collasso da questo punto di vista di quelli che appunto sono i posti di lavoro. Forse deve attivare l'audio. Lo avevo collegato per non interferire. Bene, buonasera a tutti, grazie di cuore per questo invito e per questa occasione di confronto. Sì, purtroppo la pandemia da Covid-19 è stato veramente uno tsunami che ha preso in faccia il nostro paese e non solo, e che dunque ha messo a dura prova l'economia, come sappiamo, e il mondo del lavoro, che è stato costretto ad imprimere un'accelerazione, a cambiamenti che in realtà, guardate, erano già in atto. Perché ricordo bene, noi ci siamo insediati a settembre dello scorso anno e a gennaio, subito dopo una delle più complicate leggi di bilancio, dovevamo disinnescare 23 miliardi di clausole di salvaguardia, avevamo iniziato un tavolo di confronto all'interno della maggioranza per la riscrittura del programma. E già lì, avendo preso in mano un paese che aveva una crescita dello 0,6%, dunque era già quasi in stagnazione, quindi in epoca pre-Covid ci eravamo ben resi conto che stavamo già attraversando, il sistema produttivo italiano stava attraversando una complicata fase di transizione tecnologica ed ecologica, che dunque andava comunque accompagnata da adeguate politiche da parte del governo, sia in termini di riforma degli ammortizzatori sociali, per accompagnare il sistema produttivo nella transizione. Ricordo di essere stata proprio in quel periodo a visitare l'area del petrolchimico del Ferrarese, nella nostra regione, e quegli operai che non avevano mai vissuto un'ora di cassa integrazione, in realtà avevano nei loro sguardi già il terrore della transizione ecologica che era comunque già impressa anche dai programmi della Commissione Europea. Tutto questo, poi appunto, quel lavoro di riscrittura del programma è stato travolto dall'emergenza sanitaria e dalle conseguenti misure che abbiamo dovuto mettere in campo per appunto cercare di accompagnare il Paese, le imprese e le persone attraverso questa crisi drammatica che è la crisi più grave mai vissuta dal nostro Paese sin dal dopoguerra. Come lo abbiamo fatto? Beh, nell'emergenza e nell'urgenza ovviamente non avevamo tempo di occuparci di una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali ma per non lasciare nessuno indietro abbiamo voluto estendere le coperture degli ammortizzatori degli strumenti esistenti non senza difficoltà, le conoscete bene, quindi la cassa integrazione in deroga che è stata estesa fino alle microimprese con un solo dipendente il FIS che è stato ampliato nell'accesso anche a coloro che non avevano contribuito in forma assicurativa a quello strumento quindi imprese che vanno dai 15 ai 50 dipendenti e poi la cassa integrazione nei provvedimenti successivi abbiamo dovuto mettere in campo misure di semplificazione perché anche l'Inps devo dire e le regioni che dovevano gestire nella prima fase anche alcune procedure della cassa integrazione in deroga erano mai state abituate a gestire una mole di lavoro così imponente perché all'improvviso nel mese di marzo un paese intero si è fermato cosa appunto che non aveva avuto precedenti ovviamente abbiamo avendo come dire accesso gratuito e quindi interamente a carico dello Stato con gli strumenti della cassa integrazione abbiamo concordato perché ogni decisione del governo comunque è stata concordata e discussa in un costante confronto con tutte le parti sociali quindi non solo i sindacati ma anche le organizzazioni datoriali abbiamo concordato il blocco dei licenziamenti finché c'è appunto la cassa covid nonostante ecco sempre stando agli ammortizzatori sociali abbiamo e siamo uno dei pochi paesi che lo ha fatto a livello europeo abbiamo esteso anche con una serie di indennizi anche il lavoro autonomo le partite IVA i lavoratori stagionali gli intermittenti davvero anche con provvedimenti successivi perché ogni volta che facevamo un intervento purtroppo la frammentarietà degli istituti anche contrattuali e delle forme di lavoro più precario ci ha visto intervenire appunto in modo successivo per dare aiuti a quante più persone possibili questo c'è stato riconosciuto dalla commissione tant'è che siamo quelli che hanno avuto la maggiore quota di fondo SUER da parte della commissione che non è altro che diciamo un rimborso delle misure già messe in campo che noi avevamo coperto con degli scostamenti della legge votati dal Parlamento scostamenti di bilancio e che grazie a quel fondo messo a disposizione dalla commissione europea come dire otteniamo un risparmio in termini di costo di interessi ma dicevo oltre a questo lo ha ricordato lei poco fa abbiamo tolto qualsiasi vincolo all'utilizzo dello smart working per appunto cercare di dare la possibilità a tutti di continuare a lavorare mantenendo il necessario distanziamento o continuare a lavorare addirittura appunto anche durante la fase di lockdown è stata una misura essenziale quindi derogare dall'accordo individuale imposto dalla legge ottantuno del duemila e diciassette ehm per poter appunto mettere in smart working le persone della pubblica amministrazione che hanno potuto continuare a lavorare a distanza e quindi siamo passati da un 2% di smart working nel nostro paese a un utilizzo davvero massivo è smart working quello che stiamo sperimentando in questa fase assolutamente no non è questo smart working questo è lavoro da remoto ma ha senz'altro accelerato enormemente eh quella eh quella mh quell'accesso e quell'utilizzo eh delle forme di lavoro eh da remoto e ha stimolato accelerando appunto un processo che era senz'altro già in atto che quello appunto del lavoro del vero lavoro agile ovvero un ripensamento dell'organo dei modelli di organizzazione d'impresa dei modelli di organizzazione del lavoro eh che senz'altro non ha che che prevede innanzitutto un ripensamento del rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore ehm ma eh che eh come dire ehm secondo me eh vivrà alla fine dell'emergenza una nuova fase cioè senz'altro non si tornerà indietro non tutti torneranno indietro con un lavoro totalmente in presenza ma credo che ehm una forma mista tra lavoro in presenza e eh lavoro agile eh sarà utile anche a migliorare la produttività appunto cioè lo smart working può migliorare il benessere e quindi qui eh certo parliamo anche di organizzazione eh di impresa il benessere di lavoratori e lavoratrici conciliando innanzitutto tempi di vita di lavoro eh ma anche accelerando insomma agevolando alcune eh alcune modalità eh di lavoro e e tutto questo comporterà indubbiamente delle modifiche anche in interi comparti produttivi guardate uno dei settori per esempio più colpiti è eh senz'altro il trasporto aereo ragionando per esempio con Asso Aeroporti solo pochi giorni fa perché stiamo cercando di mettere in campo delle misure anche nella legge di bilancio eh loro hanno perso il novanta per cento del fatturato eh perché ovviamente eh non sono fermi qualsiasi trasporto ehm anche come dire internazionale ma non tutto il trasporto e il traffico aereo verrà eh recuperato perché immagino per esempio che per mentre prima ci si spostava magari da Catania a Milano per andare a fare una riunione probabilmente adesso questa riunione verrà fatta eh verrà fatta da remoto dunque eh senz'altro ecco i cambiamenti sul lungo periodo di ehm di questa eh accelerazione nella transizione tecnologica eh senz'altro eh ancora non riusciamo a ben a predeterminarli ehm non credo che lo smart working chiedo scusa e e mi per 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 chiudere eh questo questo passaggio non credo che lo smart working e e sarebbe bene che lo smart working ovviamente eh non soppiantasse completamente il lavoro in presenza perché credo che quella parte eh di apprendimento on the job che si si ha anche attraverso le relazioni con i propri colleghi eh il riconoscimento anche di leadership sul campo proprio nel lavoro eh nel lavoro comune nel lavoro di gruppo nel nei luoghi di lavoro eh difficilmente può essere eh può essere sostituito ma appunto eh penso che eh questo questo cambiamento insomma eh sia un cambiamento eh che eh sarà comunque irreversibile da un punto di vista normativo il governo intende innanzitutto osservare eh il rientro diciamo alla normalità quando l'emergenza sarà finita ancora non lo è eh ci sono stati ottocentotrenta morti anche eh ieri eh ma eh e quindi valuteremo insieme alle parti sociali se ci sono dei cambiamenti da fare a livello normativo eh per sostenere le imprese in questo e le persone in questo cambiamento eh la legge ottantuno del duemiladiciassette è una buona legge contiene molti temi evidentemente molti non le leggono i testi normativi eh che eh dei temi che sono già al centro del dibattito come per esempio eh il diritto alla disconnessione eh è già nelle norme del duemiladiciassette eh il la il diritto a mantenere comunque lo stesso salario eh di chi lavora in presenza e dunque la discussione aspra che c'è stata sul diritto o meno ai buoni pasto anche questo crediamo che sia semplicemente risolvibile attraverso la contrattazione dunque se devono essere fatti delle modifiche io penso ehm a quel testo normativo io le vedo di due di due generi di due ordini uno eh per ciò che riguarda le lavoratrici madri oggi la legge del duemiladiciassette dà un'esclusiva antecedenza alle alle donne appunto alle madri io credo che questa antecedenza debba essere data invece ad entrambi i genitori anche per evitare che lo smart working diventi una prerogativa eh di noi donne e e dunque un ghetto e dunque eh come dire una una sorta di ulteriore zeppa alla alle carriere allo sviluppo anche delle carriere eh lavorative delle donne eh dunque bene eh promuovere il lavoro di la condivisione del lavoro di cura cosa che noi abbiamo messo in ogni provvedimento del governo cioè non avete non avete mai visto eh riserve per le madri ma per entrambi i genitori eh anche sui congedi parentali che appunto con causale covid che abbiamo dato nei diversi eh decreti che si sono succeduti in questo periodo ehm l'altra e l'altra cosa è che eh al all'accordo individuale a cui senz'altro bisogna tornare quando sarà finita la fase di emergenza ehm credo che sia giusto aggiungere anche la possibilità ma questo già lo fanno a legge invariata diciamo eh di eh avere accordi ehm eh nazionali accordi quadro nazionali e poi soprattutto che ci sia un rinvio alla contrattazione aziendale questo credo che sia la la cosa principale delle possibili modifiche a quel testo normativo ehm lei ha messo l'accento giustamente alla fase ehm successiva eh speriamo a breve con la diffusione del vaccino eh a a questo a a questa questa emergenza eh sanitaria eh io eh allora stiamo procedendo in due modi innanzitutto ehm abbiamo bisogno di rilanciare enormemente nel nostro paese rilanciarle iniziarle io direi proprio perché in questo momento abbiamo venti sistemi diversi regionali di politiche attive ehm abbiamo bisogno di rilanciare le politiche attive e di renderle davvero eh molto concrete proprio per questo abbiamo inserito nell'attuale legge di bilancio in discussione alla Camera dei Deputati 500 milioni di euro per la riforma delle politiche attive eh non dimentichiamo che a blocco dei licenziamenti in atto eh hanno comunque perso il posto di lavoro oltre 500 mila persone tra contratti a termine non rinnovati e ehm anche eh cessazioni di eh attività io mh ho la delega anche a tutte le crisi industriali del centro nord e purtroppo molti di questi sono eh sono cessazioni eh a cui noi appunto possiamo rispondere innanzitutto con il Mise eh attraverso eh operazioni di reindustrializzazione eh ma serve appunto un accompagnamento delle persone ehm verso un eh una riqualificazione delle proprie competenze e l'accompagnamento a eh alla ricerca di un nuovo lavoro dunque eh la preoccupazione principale è rivedere in questo momento le politiche attive mh per la cui responsabilità sta in Ampal agenzia che va rivista anche da un punto di vista della governance ehm però eh va rivisto innanzitutto lo strumento che aveva fatto il governo nella precedente legislatura eh attraverso il job act eh va rivisto l'assegno di ricollocazione eh in quale direzione? Beh innanzitutto proprio perché dovremmo affrontare una fase non semplice eh bisogna eh eh prevedere non solo il rafforzamento dei centri per l'impiego ma un vero sistema eh di governance pubblica di un sistema integrato pubblico privato dunque eh fare squadra tra eh centri per l'impiego e agenzie per il lavoro che sono quelle che hanno eh per vocazione ovviamente anche imprenditoriale i contatti eh con le aziende ne conoscono i bisogni in termini di competenze e e dunque ecco eh su questo eh stiamo lavorando ad una riforma molto seria che ribeda anche eh lo strumento dell'assegno di ricollocazione restituendolo a chi è in naspi ai disoccupati il governo giallo verde il governo precedente lo aveva tolto ai disoccupati per darlo ai percettori di reddito di cittadinanza senz'altro un errore ehm e eh oltre a restituirlo a chi è in stato di disoccupazione o chi eh percepisce la cassa eh per cessazione eh va inserito in quello strumento eh non solo tutto il processo di assessment delle competenze di orientamento e dunque di accompagnamento alla ricerca di un nuovo lavoro ma anche soprattutto una quota deve finanziare la riqualificazione delle competenze di lavoratori e lavoratrici eh perché appunto eh il nostro sistema produttivo sta attraversando una fase di transizione tecnologica ed ecologica cui noi dobbiamo assolutamente eh accompagnare con adeguati strumenti anche le persone per le persone sempre stando sulla transizione poi mi dite voi non so in quanti minuti posso parlare eh abbiamo inserito un ulteriore strumento eh che è il fondo nuove competenze ehm eh questo serve eh per riqualificare le persone le competenze delle persone dunque accompagnare nella transizione le imprese ehm che eh ma persone che sono in costanza di rapporto di lavoro dunque in questo caso il fondo nuove competenze che è finanziato attraverso il PON SPAO eh va a ehm pagare la la riduzione di orario di lavoro eh che serve per mettere le persone in formazione e eh per pagare la formazione ovviamente intervengono i fondi eh interprofessionali eh che eh operano appunto che hanno eh hanno questo eh obiettivo eh dunque ecco una serie di misure che saranno ulteriormente eh finanziate e perché servono tante risorse su questo eh da parte eh del anche nei attraverso i progetti del recovery fund non dimentichiamolo le due flagship eh del next generation EU sono proprio sulla transizione tecnologica ed ecologica eh e dunque ecco sono questi gli strumenti principali eh che noi metteremo eh in campo e su cui lavoreremo eh sempre per stare sul per tornare anzi sullo smart working eh abbiamo bisogno anche di investire enormemente eh nella digitalizzazione del paese nelle infrastrutture digitali che mancano non solo nell'intero mezzogiorno ma anche nelle intere nelle nelle aree interne eh del centro nord ma serve anche un grande investimento nelle competenze eh delle delle persone e oltre a a questo beh intanto è arrivata una bella notizia anche dalla commissione europea che proprio per l'innovazione eh dal Parlamento europeo a dire il vero eh che nella discussione appunto del bilancio ha nuovamente aumentato le risorse che erano state un po' taglieggiate eh per il programma Horizon eh EU e e dunque credo che questa sia ecco un'altra bella notizia di di queste ore noi abbiamo davvero bisogno di spingere enormemente sull'innovazione del nostro paese stiamo investendo nuovamente sul piano industria 4.0 accompagnato da un piano ehm da un piano eh di formazione 4.0 ehm altro tema che abbiamo messo al centro della eh agenda di governo eh anche per superare il mismatch eh che c'è tra competenze richieste dalle aziende e eh competenze eh offerte dal sistema eh formativo eh sono nuovi investimenti sia nella legge di bilancio eh che poi nei progetti del recovery eh per la diffusione del sistema duale stiamo riflettendo con le parti sociali anche se cambiare fare delle dei cambiamenti senz'altro vanno fatti soprattutto per spingere ehm sull'apprendistato di terzo livello cioè eh che per consente appunto di eh conseguire eh il un titolo terziario dunque universitario o ITS eh anche attraverso il sistema duale dunque parte del tempo speso in impresa e parte del tempo eh speso eh all'università o nei corsi ITS eh perché ecco eh il profondo mismatch che c'è ci sono circa duecentocinquantamila eh profili che vengono richiesti eh dalle aziende e che non trovano risposte eh nell'offerta appunto di competenze che viene fuori dal sistema formativo eh dunque ecco come sempre eh i le allora stiamo è vero attraversando una fase davvero drammatica l'industria va l'industria va lo vediamo nella nostra regione l'Emilia Romagna la manifattura comunque va sa competere sul mercato i settori più colpiti dell'industria sono l'automotive e ehm e la la moda senz'altro ma quello che è più duramente colpito è il terziario per questo crediamo appunto che innanzitutto ancora prima che la riforma delle politiche passive sia necessaria una eh spinta eh di innovazione eh sulle politiche attive e sull'investimento delle competenze delle persone grazie sottosegretaria grazie per questo interessante intervento introduttivo ma ricentrato peraltro su una parola che mi piace molto e che ci piace molto che è innovazione è un intervento introduttivo non solo molto interessante ma io credo oggettivamente anche necessario in un momento così magmatico che ha bisogno per quanto possibile di sistematizzazione eh parlava di non predeterminabili cambiamenti di sistema nel lungo periodo però parlava giustamente di cambiamenti e soprattutto di cambiamenti importanti e probabilmente come giustamente ci ha ricordato irreversibili c'era e c'è una fase di transizione che si è snodata anche attraverso la riorganizzazione aziendale una riorganizzazione aziendale mi permetto di aggiungere io per certi versi forse imposta dalle contingenze probabilmente io credo sicuramente opportuna a prescindere dalla contingenza della pandemia forse non frutto di sistematico percorso di riflessione professor Fabri anche probabilmente dal punto di vista accademica in materia le chiedevo professore nel proseguire le riflessioni che ha introdotto la sottosegretaria quanta distanza c'è tra forma e sostanza nell'organizzazione aziendale ma soprattutto qui giunti di oggi quanta maggiore distanza tra forma e sostanza c'è in questa materia proprio in virtù o proprio a causa di quella riorganizzazione aziendale di cui parlava poc'anzi la sottosegretaria grazie buongiorno la domanda è ovviamente una domandissima io ringrazio innanzitutto voi dell'invito e ringrazio chi ci sta ascoltando e ringrazio anche gli interventi l'introduzione sua e questo intervento della sottosegretaria perché avete detto un sacco di parole che mi appassionano ovviamente diciamo mi sembra di capire dalle parole della sottosegretaria che questa fase drammatica la state cercando di leggere ovviamente come una grande e interessante opportunità per rimettere mano a cose che erano un po' disjoint già da prima e che sia a livello micro penso alle menzioni che ha fatto in tema appunto di smart working di rapporto col benessere dei lavoratori ma anche a livello macro le politiche attive il ruolo della contrattazione decentrata quindi immagino quanto stiate lavorando immagino l'interesse che ci sarà mettere a terra le cose nei prossimi mesi venendo alla invece alla introduzione che ha fatto l'avvocato sola devo dire le parole chiave sono state per me diverse la prima è l'interdisciplinarietà io mi occupo diciamo professionalmente di organizzazione aziendale ho avuto la fortuna negli ultimi anni di di contaminarmi con i gius lavoristi in particolare perché lavorando la fondazione Marco Biaggi diciamo nel comitato scientifico ma anche nella commissione di certificazione ho avuto l'occasione e la ritengo davvero tale di conoscere le difficoltà e le promesse di mettere insieme lessici quadri teorici punti di vista di discipline differenti discipline che hanno delle idee personali dei modi in particolare di trattare i concetti di modello di razionalità di incertezza che era un pochino questo su cui anche preparando questo intervento coordinandomi con l'avvocato luparia col collega luparia donati io avevo diciamo messo a fuoco la possibilità che un ragionamento speculativo di qualche minuto con poi delle possibili implicazioni pratiche potesse essere focalizzato proprio su questo cioè sul rapporto che c'è fra diciamo il titolo scusate il titolo era il problema dell'organizzazione aziendaria della sua fluidità rispetto alla necessità di presidiare invece stabilmente delle sue dimensioni di risultato quindi pensiamo alla 231 cioè quindi all'organizzazione per la prevenzione dei reati piuttosto che a tante altre cose che abbiamo visto nel tempo e che si sono via via accumulate pensiamo all'organizzazione per la qualità pensiamo all'organizzazione per la prevenzione dei rischi dei lavoratori quindi ci sono tante diciamo dimensioni di risultato organizzativo oltre all'efficienza e all'efficacia strettamente economico-finanziaria che sono meritevoli di organizzazione cioè sono meritevoli di un ragionamento che attiene a come finalizzare persone e risorse rispetto a un risultato come ordinarla ecco questo è diciamo lo specifico dell'organizzazione e devo dire per se posso devo dire che è un ragionamento che si può fare a diversi livelli esattamente anche a livello del policy making quindi la scrittura di una legge è di fatto il tentativo di ordinare un determinato ambito del vivere secondo delle modalità che dovrebbero generare dei risultati attesi positivamente quindi se questo può essere diciamo un minimo comune multiplo delle sollecitazioni che ha avuto fino adesso io vi proporrei un breve ragionamento proprio sul problema del cambiamento organizzativo e quindi della fluidità dell'organizzazione e lo farei a partire dal vocabolario perché mi è sembrato l'aggancio più facile e il vocabolario se voi aprite un vocabolario ci trovate scritto che l'organizzazione può essere sostanzialmente due cose due connotazioni una cosa è un'entità organizzata oppure ci trovate scritto che l'organizzazione è l'attività dell'organizzare allora io credo che il modo più diffuso di intendere l'organizzazione almeno quello che io ho trovato nella troppo poca argomentazione giuridica fosse essa pubblicistica lavoristica o penalistica che mi è capitato di frequentare è quello decisamente prevalente cioè l'idea dell'organizzazione come entità organizzata allora da dove viene questa idea e che problemi può avere lo vedremo alla fine spero in poco tempo allora lì viene questa cosa viene dall'utopia taylorista taylor era diciamo uno dei padri della teoria organizzativa lui lavorò per un po' in un'impresa come operaio dopo una laurea in ingegneria vide che gli operai rallentavano sistematicamente il ritmo di produzione quindi erano detentori di una conoscenza che il datore di lavoro non aveva in virtù di questa conoscenza decidevano come e cosa fare e lui si era accorto che questo comportava una perdita di efficienza drammatica e per recuperare queste efficienze quindi per fare una cosa che per lui aveva la stessa importanza di eliminare gli sprechi di materie prime quindi se vogliamo aveva un pensiero già che era analogicamente ecologico lui pensò che si trattava di estrarre tutto quello che lui chiamava il brain work quindi tutto il lavoro di ideazione di messa a punto delle regole di lavoro di estrarlo dai lavoratori e di affidarlo a delle persone più competenti per educazione per capacità che avrebbero trovato la soluzione organizzativa migliore quindi avrebbero trovato quella peculiare selezione e successione di azioni in determinati contesti di strumenti di impianti che avrebbe generato la massima efficienza quindi la massimizzazione del risultato finale quindi se vogliamo ora che cosa che cosa succedeva lì che trattandosi di processi produttivi che avevano relativamente adesso dire semplici e sbagliato però stabili ecco possiamo dire questo stabili questo lavoro di predeterminazione poteva riuscire davvero perché a quel punto se io prendevo avevo formalizzato la modalità di spostamento degli scarti di ghisa dall'area immediatamente adiacente alla lavorazione fino al carrello trasportatore e lo avevo fatto studiando quelli che erano i livelli ottimali di pause affinché i lavoratori non si affaticassero io a quel punto avevo un set di istruzioni severissime che potevo impartire che avrebbero generato sicuramente la massima efficienza e questo faceva sì che tutto ciò che deviava da quelle tutti i comportamenti che avessero deviato da quelle prescrizioni erano effettivamente comportamenti devianti come tali dovevano essere puniti dovevano essere eliminati succede faccio un salto di qualche decade succede che a un certo punto la riflessione sulle organizzazioni aziendali prende atto del fatto che queste condizioni di stabilità non ci sono voi sapete le economie e i mercati al tempo di Taylor e di quei pensieri erano più facili di quelli odierne e per cui ci si accorge che c'è questa incertezza una parola usata nell'introduzione dall'avvocato Sola questa incertezza cosa comporta? comporta che il lavoro di predeterminazione quindi di organizzazione previa di fissazione previa delle regole che avrebbero di coordinamento quindi di azione di coordinamento che avrebbero generato i risultati attesi non è possibile non è possibile farle esaustivamente perché possono cambiare due cose in corso d'opera rispetto alle quali e che io non posso conoscere cosa succede allora? succede che il diciamo il prescritto e l'effettivo possono coesistere laddove il comportamento effettivo pur incorporando il prescritto che era un po' meno preciso del prescritto Taylorista a condizione che questo effettivo fosse funzionale a risultato desiderato quindi la teoria organizzativa che si mobilita che si mette a punto negli anni 50 che è la stessa tale e quale che abbiamo oggi come i manuali di organizzazione nelle business school quella che si studia prevalentemente è una teoria organizzativa in cui non c'è tanto la devianza ma c'è la possibilità che il comportamento differisca dal prescritto in quanto discrezionalità funzionale cioè in quanto un'aggiunta di regolazione che le persone introducono al fine di presidiare i risultati desiderati allora è questa diciamo in questa idea di predeterminazione io credo ci sia l'idea di modello organizzativo in tutte le argomentazioni giuridiche c'è questo concetto di modelli organizzativi io credo che l'idea sia questa cioè l'idea che io possa predeterminare diciamo delle modalità di comportamento e di coordinamento che con buona probabilità mi garantiscono il risultato atteso allora questa è la teoria organizzativa posso dire di mainstream la specifico con altre due tre parole chiare se ci sono troppi concetti prego qualcuno di alzare la mano oppure di darmi uno spintone digitale la regolazione in quest'idea di organizzazione di modello organizzativo coincide con la regolamentazione cioè di fatto la regolazione sono le regole che ho scritto prima quindi regolamentazione in quanto regolazione previa questo ovviamente è un discorso in cui ad esempio il legislatore cambia un attimo di livello vengo vengo ai problemi che si pone oggi la sottosegretaria sul ridare diciamo slancio di effettività alle politiche alle politiche attive ecco c'è ovviamente un momento di disegno ahimè posso dire ma qui non ho mai fatto il politico quindi mi addentro cioè il politico il policy maker in un campo spesso diciamo immagino che il lavoro suo sia 80% 85% scrittura delle regole e dopo ci sono delle agenzie che le devono fare funzionare ci sono altri che le devono rendere effettive quindi spesso il problema dell'effettività è dissociato dal problema della concezione che è un pochino il problema l'opportunità telorista cioè questa cosa ha una sua efficienza ma è ovvio che saranno poi altri che dovranno preoccuparsi del fatto che le regole prescritte hanno effettivamente generano quel risultato atteso quindi la regolazione è regolamentazione il concetto di informalità è sostanzialmente il concetto di flessibilità cioè io quanto più ho informalità vuol dire che quanto più ho persone che cercano di adattare quelle regole incomplete che avevo scritto prima ai risultati agli obiettivi che 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 l'organizzazione si dà che cos'è il cambiamento organizzativo quando è vengo al concetto al tema di fluidità del problema della dinamica organizzativa allora il cambiamento organizzativo succede ogni volta che l'applicazione del modello cioè l'applicazione del prescritto non porta ai risultati che mi aspettavo quindi ogni volta che io osservo che l'organizzazione non produce quello che io vorrei quindi perché non previene i reati perché non genera contenimento degli infortuni perché così come osservo che un sistema regolativo di nuovo cambio livello delle politiche attive per il lavoro non genera quei risultati attesi in termini di occupabilità ebbene allora lì generalmente si problematizza la conoscenza tecnica che è incorporata nel modello quindi si dice il modello non è fatto bene si cerca un altro modello ecco allora la progettazione organizzativa cioè io quindi ridisegno l'organizzazione perché vedo che quella che ho non va abbastanza bene e nel fare questo trattengo l'idea di modello cioè trattengo l'idea che attraverso la regolazione previa io possa predeterminare l'esito allora domanda domanda che cosa che cosa fare che cosa succede di fronte di fronte all'evidenza empirica che il comportamento effettivo differisce dal prescritto cioè non tanto che il modello rispettato non produce risultati attesi ma che il modello non è rispettato quindi che che ne so che io faccio un sistema di una cosa su cui mi hanno sollecitato a riflettere in un webinar nei prossimi giorni io mi accorgo che gli strumenti di detassazione dei salari di produttività non hanno non sono utilizzati in una misura ragionevole tare da generare una diffusione maggiore della contrattazione decentrale cioè lo ridico cosa fare se osservo che la mia prescrizione non è necessariamente assecondata oppure è spesso disattesa oppure è sempre disattesa allora qui ho due possibilità principali salvo tutto l'impianto teorico di mainstream e c'è tutto il mio quadro teorico e cerco di fare in modo che le persone in effetti facciano quello che avevo prescritto questo di nuovo lo posso vedere a livello micro ad esempio la gestione delle risorse umane in occasione di cambiamenti organizzativi è un insieme di dispositivi di azioni che cercano di fare in modo che le persone effettivamente assecondino quelle intenzioni regolative che avevo messo nel modello succede un'altra cosa quando faccio questo succede che io diciamo in questo in questo modo di atteggiarsi trovo anche la possibilità delle derive formalistiche derive formalistiche nel senso che ad esempio ho un ecco questo faccio l'esempio della 231 come dei sistemi di certificazione qualità è esperienza di tutti diciamo gli addetti ai lavori che si possono dare situazioni in cui la correttezza delle carte quindi della forma è altra rispetto alla concreta fenomenologia organizzativa quindi la sostanza del funzionamento di quell'organizzazione ora c'è però vi dicevo una seconda possibilità qualora io veda che il comportamento prescritto effettivo differisce spesso o sistematicamente dal dal prescritto ed è di problematizzare la nozione di predeterminazione cioè di contemplare al posto dell'idea di predeterminazione cioè l'idea che la regola previa possa determinare i comportamenti accogliere un'idea di preordinazione cioè l'idea che la regola previa possa contribuire a regolare i comportamenti a valle ma non esaustivamente fare questo significa accedere alla seconda concezione da vocabolario di organizzazione che è la concezione diciamo processuale di organizzazione cioè l'idea che l'organizzazione sia un processo in continuo divenire perché cosa vuol dire perché perché se io considero l'organizzazione come un processo in divenire sto dicendo che la regolazione di questo processo l'ordine del processo ha una componente previa ma una componente che è intrinseca al divenire del processo quindi costitutivamente autonoma e che quindi tutto ciò che prima era per me informalità cioè tutto ciò che il comportamento effettivo realizzava per riempire gli spazi non previsti perché non prevedibili dalla norma previa qui diventa una sempre una come dire non è una sorpresa è una componente analitica nel senso che c'è in qualunque processo di azione e decisione ho sempre una componente che avviene nel corso di quel processo di azione e decisione che non posso non posso predeterminare in un modello regolativo da applicare previamente e magari da riprodurre allora che cosa vuol dire in questo quadro diverso in questo diverso quadro concettuale che guardate è una vi sto dicendo in maniera veramente troppo rozza me ne perdono perché è anche un po' frettolosa sostanzialmente le opzioni epistemologiche teoriche che ci sono nel mio ambito disciplinare che è la teoria dell'organizzazione succede che il cambiamento succede che l'organizzazione non si può più dire che ha una dinamica ma a quel punto l'organizzazione è una dinamica e quindi il cambiamento organizzativo è continuo e quindi la regolazione del cambiamento organizzativo non è più un fatto discreto per cui ogni tanto io vedo un gap di risultato non dico no in realtà qua con questo modello non sto prevenendo i reati oppure con questa legge non sto effettivamente diciamo producendo una maggiore efficacia delle politiche eccetera e in quel caso mi ingegno chiamo qualcuno che mi aiuti a rimettere mano al sistema di regole sempre sempre trattenendo l'idea che la predeterminazione sia lo strumento col quale produrre risultati ecco in questo secondo caso in questo secondo diciamo nella pratica di questo secondo apparato teorico invece io devo fare i conti con una regolazione che gioco forza distribuita cioè nel senso che la fonte regolativa non è solo il regolatore che si disegna il modello ma sono anche i soggetti che lo abitano lo interpretano e contribuiscono ad applicare questa cosa ovviamente ha delle implicazioni diverse io diciamo nella mia diciamo nelle mie esperienze sono riuscito ad applicare queste questi diciamo a vedere la pratica di queste cose ad esempio sul policy making in particolare su sulle politiche di sviluppo territoriale oppure le ho viste le ho viste nelle organizzazioni aziendali quindi e lì ad esempio se guardo l'organizzazione aziendale il tema della regolazione distribuita che quindi in un qualche modo problematizza l'idea che ci sia un esperto a Houston piuttosto che a Bologna che mi dice come devo disegnare la mia organizzazione ma che sia una cosa che è una responsabilità che non posso schivare per certi versi né io né le persone che ci stanno dentro ecco lì ovviamente diventa diciamo questi concetti diventano interdipendenti con i concetti del diritto del lavoro e quindi immaginatevi come questa cosa entri in tensione con alcuni istituti non so la potestà datoriale la responsabilità datoriale in materia di sicurezza cosa succede a quell'istituto se io considero e diciamo e muovo dall'idea che non ci sia un modello organizzativo che il datore di lavoro può progettare e che sia affidabile e garantisca la prevenzione di quel risultato il conseguimento di quel risultato e che invece debba vedere una responsabilizzazione distribuita perché la capacità regolativa cioè la capacità di generare regole quindi modalità di azione di coordinamento e di controllo strumentale a quel risultato che io attendo non è solo mia ma è anche di altri qui ad esempio in materia di di lavoro di relazioni sindacali e ovviamente va a finire contro va a sbattere contro il tema o si mischia con il problema della partecipazione dei lavoratori e in tema di politiche dello sviluppo tocca il tema del top down bottom up e questa questa annosa questione di come si possa generare cambiamenti in un contesto quindi sono categorie molto ehm 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 come posso dire molto spendibili molto fruttuose ehm di cui io però non conosco tutte le implicazioni perché non ho avuto tempo e vita abbastanza per per vederne eh per vederne l'applicazione eh quindi se 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 considerate una domanda al al chairman ehm io potrei avrei una chiosa eh ma mi è rimasto indietro un 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 altra bordata concettuale che a questo punto forse è troppo pesante per questo che chiedo conforto che però eh che è l'idea di razionalità che che è incorporata in queste due diciamo teoriche che vi ho proposto perché ehm mi è capitato a volte che fare discorsi interdisciplinari il concetto diciamo ho capito che le discipline incorporano un'idea di razionalità e allora far risuonare l'idea di razionalità che c'è in una disciplina rispetto a un'altra certe volte è stato utile ad esempio qual è la razionalità che c'è nel diritto penale scusate la la semplificazione rispetto alla razionalità che è incorporata in queste opzioni di teoria organizzativa che vi ho detto cioè in altri termini lo dico in un secondo ehm ehm io posso immaginare l'organizzazione come modello che predetermina i comportamenti quanto più pensate a Taylor di cui vi ho detto all'inizio quanto più ho una conoscenza assoluta quanto più le mie conoscenze mi permettono di sapere con relativa certezza che facendo X otterrò il risultato B quanto meno ho questa conoscenza quindi quanto più le mie conoscenze sono quanto più la mia razionalità è limitata questo per usare una parola importantissima coniata da un Nobel nel 1947 che si chiamava Herbert Simon quanto più considero che la mia razionalità sia limitata quanto meno posso immaginarmi come un regolatore onnisciente che al momento T con uno disegna il modello che poi funzionerà allora qui non so appunto nel diritto penale quale sia l'idea di razionalità che c'è dentro ma se fosse più l'uno o più l'altra mi verrebbe da dire che il diritto penale si troverebbe quindi diciamo il diritto elettivo della due per uno si troverebbe più a suo agio con l'una o con l'altra di queste prospettive sull'organizzazione spero davvero di non essere stato esageratamente speculativo avevo ci eravamo accordati su un genere di intervento di questo tipo ma la conduzione non so come sia andata per cui io direi che mi taccio e vi ringrazio grazie a lei professore direi che la conduzione sia andata splendidamente visto i tanti spunti di riflessione che ci ha dato io credo che lei abbia detto cose davvero importantissime soprattutto per noi giuristi così poco avvezzi a frequentare dall'interno la sua materia che però come si capisce perfettamente dalle sue parole è intrinsecamente connessa con la nostra e con le nostre mi è piaciuto innanzitutto l'imprinting che ha voluto dare a questa sua alta relazione quando ha detto discipline che hanno modi diversi di mettere a fuoco i concetti di modello e di certezza questo è certamente vero ed è la ragione per cui proviamo a dialogare per capire se da questo punto di vista si può trovare una sintesi nell'idea di preteterminazione dei comportamenti che insomma volendo liquidare il tema con una battuta è una delle grandi idee proprie della teoria generale del diritto c'è l'idea di modello organizzativo vero verissimo il cambiamento dell'organizzazione lei ci diceva avviene quando l'applicazione del modello non restituisce i risultati attesi e credo che questo si sia inteso chiaramente anche nelle parole della sottosegretaria quando prima parlava volente o nolente di riorganizzazioni aziendali che soprattutto in questo periodo che certamente non ha sempre restituito i risultati attesi si sono rese necessarie nell'idea della regolamentazione previa c'è quella di determinare l'esito immagino peraltro professore di determinare l'esito secondo le aspettative proprie di chi quella regolamentazione previa ha posto o in quella regolamentazione previa ha creduto e c'è un'altra volta il riflesso di quello che dal punto di vista più politico si diceva anche la sottosegretaria un altro spunto di riflessione professor Lupari a Luca che il professor Fabri ha posto e che mi è sembrato molto interessante è quando ha detto sebbene ho appuntato non è solo il regolatore che nel nostro mondo dovrebbe chiamarsi legislatore a disegnare il modello ma sono anche i soggetti che lo abitano ci sono tante dimensioni Luca si diceva il professor Fabri in ambito aziendale che sono meritevoli di organizzazione la dimensione penale era meritevole di organizzazione ma soprattutto Luca a tuo parere come ha reagito il sistema penale a questo tentativo ormai fatto vent'anni fa di essere calato dall'alto nell'ambito dell'organizzazione aziendale si può parlare per rubare le parole del professor Fabri di massima efficienza da questo punto di vista eccomi innanzitutto grazie per l'invito e per la possibilità di dialogare perché effettivamente appena ci allarghiamo un po' impariamo un sacco di cose perché le cose che ci ha detto il collega Fabri come vedremo sono molto utili anche per l'analisi dell'attuale situazione del tema diciamo così 2-3-1 in Italia scusate che sono un po' tagliato allora è evidente che questo calare dall'alto non tanto dal legislatore perché poi il legislatore non ha mai indicato qual è il modello organizzativo atto a prevenire reati che a lui piace e ai giudici piace ma evidentemente lo demanda alle stesse società e quindi è il vertice dell'organizzazione che si dà quell'organizzazione in questo caso atta a prevenire i reati e se ne dà tante però ed è questo un po' il profilo che può essere anche interessante per complicarci più la vita perché oramai il tipo di organizzazione che viene data ai fini appunto penalistici chiamiamoli così non è più una perché pensate che moltissime aziende al modello organizzativo 231 si affianca per esempio il modello anticorruzione che è un sistema diverso ma che lo tocca che lo va a volte a sovrapporre anche a complicare le stesse finalità perché immaginate una società che debba applicare per la stessa attività procedure differenti che rispondono a logiche differenti già questo non è massima efficienza sicuramente perché crea già un dubbio da questo da questo punto di vista ora volendo rispondere partendo da lontano alle sollecitazioni dell'amico avvocato Sola diciamo che siamo in una fase oggettivamente nuova del tema 231 perché era necessario diciamo far passare questi vent'anni per comprendere bene queste tematiche anche a livello di economia aziendale di organizzazione che non erano tipiche del nostro mondo solo adesso lavorando insieme perché non sono solo i giuristi ma forse mi hai chiamato anche per il ruolo magari di organismo di vigilanza in grandi aziende il penalista che entra dentro l'azienda inizia a conoscere una realtà che ignorava da un certo punto di vista e inizia a capire che l'argomento di oggi forma e sostanza nel modello 231 va approcciato in una maniera un po' singolare cioè da un lato la forma è sostanza cioè perché per il nostro sistema anche una sostanza che concretamente sia capace di prevenire rischi penalistici ma che non abbia la forma di un modello organizzativo e non basta sappiamo se è giusto o no ma non basta perché ci vuole anche la forma ma dall'altro la forma da sola non basta lo stesso perché il tema della certificazione che ci diceva Tommaso c'è ancora una sentenza recentissima di qualche mese fa non basta in ambito penale una bella certificazione per risparmiare la responsabilità da reato dell'ente perché se poi nella sostanza ci sono singoli aspetti che dovevano essere valutati dal datore di lavoro per esempio per la salute e sicurezza ebbene la forma non salva quindi è come dire forma e sostanza non c'è modo di scegliere una o l'altra nel settore diciamo 231 ma forma cosa vuol dire forma vuol dire che quel modello organizzativo che è diverso per ogni società perché recentemente in una ricerca che ho fatto proprio sulla compliance 231 la conclusione di un volumetto che è uscito qualche mese fa è proprio che non esiste un modello 231 non esistono tantissimi a seconda dei settori economici se si va proprio ad analizzare come le grandi società di consulenze piuttosto che diciamo le singole compagini organizzano un modello un modello 231 di un settore farmaceutico non ha niente a che vedere rispetto a un modello 231 di un settore industriale piuttosto che del fashion per fare degli esempi assolutamente banali e quel modello è un modello che per avere la forma per così dire richiesta ha necessità di seguire quello che ci diceva il professor Fabri cioè non ragionare più per diciamo parametri astratti come potrebbero essere i reati come si costruivano i modelli organizzativi vent'anni fa si prendeva il reato cosiddetto presupposto quel rischio ipotetico e poi si costruiva il modello diciamo la cosiddetta parte speciale del modello sulla base di di quel reato ora si costruisce per processi questo è già un cambiamento enorme cioè la costruzione è sui processi aziendali ogni processo aziendale può toccare diciamo più rischi di reato ma diciamo è un rovesciamento già che negli ultimi vent'anni è andato a determinarsi la forma ovviamente sarà una forma di effettivamente predeterminazione come ci diceva il professor Fabri per esempio sulla struttura dell'organismo di vigilanza che ha delle sue regole formali pensiamo alla composizione di questi giorni che hanno il dibattito anche a livello pubblico per esempio per tutte quelle società pubbliche che per esempio attribuiscono al collegio sindacale il ruolo anche di organismo di vigilanza succede anche in ambito bancario moltissime delle controllate delle banche hanno questa tipologia ecco la riflessione è a livello già anche solo di forma cioè di predeterminazione è un modello accettabile a mio avviso no per esempio perché sono due approcci diversi due lavori diversi ed è meglio avere due presidi che uno solo diciamo che si muove con doppio con doppio cappello ma è evidente che anche l'insegnamento giurisprudenziale ormai ci ha detto che quello che conta è la capacità per quello mi è piaciuto moltissimo l'intervento del professor Fabri di adattamento continuo del modello cioè il modello organizzativo non è e questo tutta la giurisprudenzia se lo dice una cosa calata dall'alto magari dalla società di consulenza che pur ha diciamo studiato il cosiddetto risk assessment ha studiato i rischi penalistici all'interno dell'azienda conoscendola però sempre da fuori infatti anche questo è un tema molto caldo e molto interessante a livello pratico cioè l'importanza che queste attività di risk assessment siano fatte insieme all'azienda insieme ai soggetti che conoscono come funziona e non anche soggetti bravissimi con esperienza internazionale ma bisogna farlo insieme quel lavoro ma nonostante venga fatto insieme venga fatto bene venga poi costruito dal Consiglio d'amministrazione che lo approva perché poi questo è il modello organizzativo la sua capacità ed è quello che viene valorizzato la giurisprudenza perché se siamo davanti alla giurisprudenza vuol dire che un reato è stato commesso se no non saremmo davanti al giudice e quindi quello che deve valutare la giurisprudenza è la capacità oggi si direbbe di resilienza che è tanto di moda la capacità di adattarsi continuamente nel momento in cui l'organizzazione si riadatta si riadatta si riadatta sempre ma come fa la società a continuamente rendere aderente quel modello ai nuovi rischi che sono determinati dallo scostamento tra prescritto ed eseguito empirico che dicevamo prima o proprio da modifiche organizzative non è solo l'aggiornamento del modello che è un elemento evidentemente molto importante ogni anno al di là degli aspetti normativi che impongono l'aggiornamento perché il legislatore è molto attivo sul fronte della modifica dei reati che determinano una responsabilità ma proprio perché non dico ogni anno in quel caso ma quasi un'azienda diciamo ha necessità di mappare di nuovo i propri rischi pensiamo all'esempio del covid di quest'anno non è solo un rischio dico una cosa banale ma è importante non è solo un rischio sanitario ma ci sono anche i cosiddetti rischi correlati covid nell'azienda evidentemente pensiamo solo alla pregevole normativa emergenziale del governo sui crediti d'imposta sulla cassa integrazione in deroga sullo smart working stesso di cui parlavamo prima generano nuovi rischi pensate per i reati informatici diciamo la tenuta del sistema di IT è totalmente diversa nel momento in cui abbiamo soggetti che lavorano in remoto stesso discorso vale per il credito d'imposta genera possibili nuovi elementi di commissione di commissione di reato quindi non è solo l'aggiornamento che sa va a san dire è la base per poter iniziare a ragionare di un modello che si adatti ma quello che è necessario è la capacità da parte di alcuni soggetti di stimolare una continua rimodulazione della valutazione e del presidio successivo e questi sono per l'appunto l'organismo di vigilanza ma non nella dimensione della forma ma nella dimensione della sostanza dell'attività concreta dell'organismo di vigilanza fatta auspicabilmente nelle aziende medio-grandi con la partecipazione o con partecipazione dell'interna audit questo è un tema che è troppo poco trattato cioè l'interazione tra internal audit e organismo di vigilanza non soltanto nella chiave che l'interna audit nel migliore dei mondi è uno dei tre componenti dell'organismo di vigilanza due esterni e uno interno il più indipendente possibile ma proprio per la tipologia di interazione e di dialogo ma in questo continuo lavorio sul modello entra in gioco se ci pensate anche il whistleblowing che cos'è il whistleblowing se non una possibilità di accorgersi di modifiche organizzative o di scostamenti di fatto che non vengono percepiti all'interno dell'azienda stessa no? perché ormai il controllo è un controllo diffuso non è solo controllo dico anche questa è una banalità non è quello solo dell'organismo l'ecologia sindacale delle responsabili di anticorruzione ma anche quello del whistleblower non solo interno ma anche esterno perché questa è la dimensione poi dell'ultimo anno non è tanto la segnalazione del dipendente che volete mantenere la propria riservatezza ma è soggetto fuori è soggetto fuori che aiuta in questo lavoro no? si fa l'esempio per esempio non lo so immaginerete a volte avrete visto sulle autostrade quei camioncini camion magari di aziende in cui c'è scritto il nome il numero di telefono dell'azienda dice se vedete che questo camioncino fa delle infrazioni stradali comunicatelo subito a questo numero che cos'è questo? è un controllo esterno che però è fondamentale in questa tipologia di settore ovviamente adesso il quadro sta anche molto cambiando dopo che il governo necessariamente ha introdotto con legge diciamo di dicembre 2019 e poi di recepimento la direttiva PIF luglio 2020 i reati tributari all'interno del sistema 231 ora non ci interessano oggi i reati tributari ma che cos'è che cambia a livello di modello e anche quindi di organizzazione è che la 231 è sempre stata immaginata diciamo sicuramente diciamo per gli apicali ma soprattutto per diciamo i subordinati molte volte o i quadri medi ma l'ipotesi adesso vado su un aspetto tecnico più penalistico l'ipotesi dell'elusione fraudolenta del modello cioè il caso in cui la società si salva diciamolo in soldoni nel momento in cui un modello che ben teneva è stato eluso fraudolentamente era un caso scuola nel momento in cui però vengono introdotti i reati tributari che costituiscono per definizione il reato dell'apicale più apicale che c'è cioè il legale rappresentante è lui che firma la dichiarazione diciamo dei redditi per dirla così il modello è tutto costruito proprio sul tema dell'illusione fraudolenta perché non c'è altro modo di costruire un'organizzazione perché solo eludendo fraudolentamente e quindi con dei pressivi particolari il vertice massimo potrebbe diciamo aver commesso qualcosa che non comporta la responsabilità della società questo è un aspetto che viene altro elemento vado in mania un po' rapsodica ma perché è un dialogo quindi voglio mettere sul tavolo gli argomenti è la spinta all'autoconfessione della società anche da questo punto di vista l'organizzazione dei modelli 231 è totalmente diversa qui facciamo riferimento a una normativa d'inizio 2019 cioè il cosiddetto spazzacorrotti che determina per esempio che la società non possa essere sottoposta a misure interdittive che sono il vero spauracchio per le società dal punto di vista 231 perché non è tanto la sanzione pecuniaria che è gestibile diciamolo così in maniera un po' grezza ma è il blocco dell'attività il commissariamento insomma questo tipo di il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione che diciamo squadernano la possibilità di azione della società ecco nel momento in cui la società consegna responsabile all'autorità lo denuncia l'interno diciamo responsabile seppur ha commesso un reato a interesse o vantaggio della società in ipotesi se no non saremmo sul terreno 231 ecco diciamo capite che la struttura interna diventa anche una struttura organizzativa volta non più come era in passato alla protezione diciamo degli esponenti aziendali da punto di vista anche organizzativo ma invece a salvo i casi evidentemente di capri espiatori a cui non vogliamo neanche immaginare neanche pensare ma tesa invece a un rapporto interno totalmente diverso che è quella di un'indagine interna volta a trovare i colpe quindi l'attività pubblica di accertamento dei reati adesso la dico un po' anche qui facilmente è come se venisse demandata non so se per una riconoscimento di incapacità da parte dello Stato alla società stessa società stessa che a quel punto è incaricata se vuole salvarsi e se non vuole conseguenze inaudite diciamo a consegnare il il furfante e questo è un è un cambio epocale che di cui capiremo i risvolti tra alcuni anni perché stiamo parlando di una legge che neanche tutte le società hanno ancora recepito senza parlare dei reati tributari che da una recente analisi evidentemente perché è successo proprio durante il covid sono stati recepiti per adesso a livello di cambiamento del modello da pochissime da pochissime aziende e per unire e tra l'altro diciamo è anche l'aspetto fenomenologico della società del momento storico che va preso in considerazione a livello di residenza del modello e mi aggancio a temi un po' di vicini al diritto del lavoro visto che oggi ne abbiamo parlato di questo è del tema attualissimo su cui sono molto attive le procure della Repubblica e su cui sono molto attive le società che si stanno attrezzando il tema del caporalato il caporalato è un reato è un reato importantissimo dal punto di vista della politica criminale ma dal punto di vista della 231 non è mai stato salvo che per aziende che per definizione hanno quelle problematiche di rischio non è mai stato un focus invece lo è diventato quest'anno perché volendo dare un po' visto che una delle parole chiave di Guido all'inizio c'era anche un po' l'attualità perché lo è diventato fondamentale da quando una decisione del Tribunale in questo caso di Milano delle misure di prevenzione che adesso per i non addetti ai lavori anche se credo che chi ci sta ascoltando siano soprattutto giuristi avvocati eccetera è un procedimento di prevenzione che non è un vero e proprio procedimento penale lo dico a Tommaso che ha colpito alcune società tra cui una multinazionale sulla base adesso la faccio anche qui molto semplice di questo tipo di argomento quindi commissariando la direttura quindi con un provvedimento che magari all'interno della società non era stato commesso il reato di caporalato perché nessun dipendente diciamo era stato oggetto per esempio di sfruttamento eccetera ma sono le parti terze per esempio il mondo delle cooperative per esempio della logistica dei trasporti eccetera erano società terze che hanno commesso questo reato e quindi non potendo attribuire la responsabilità 231 alla società le si è attribuito una cosa ancora peggiore perché da un punto di vista pratico è ancora peggio una misura di prevenzione per una specie di contiguità rispetto a queste società cooperative come se si volesse sfruttare l'attività di sfruttamento che un altro fa è molto interessante questo ma non ci interessa se è giusta o no l'interpretazione giuridica ma come cambia allora il tema organizzativo visto che in questo provvedimento del Tribunale di Milano si fa riferimento al modello 231 non come fonte di responsabilità ma l'ineguatezza del modello 231 a fronteggiare questo fenomeno diventa causa per poter applicare la misura di prevenzione quindi la ricetta è sempre il modello organizzativo deve essere migliorato e cosa vuol dire vuol dire che l'attività organizzativa quella di cui abbiamo parlato adesso deve oramai necessariamente allargarsi verso soggetti che non sono dentro l'azienda in senso stretto ma di fatto sono delle braccia delle gambe dell'azienda che dal punto di vista civilistico sono totalmente strane ma da un punto di vista non so se l'espressione è giusta macro organizzativa diciamo sono sono all'interno e quindi uno dice ma io come faccio a costruire un modello organizzativo predeterminato quello di cui parlavamo prima per soggetti che non sono io beh innanzitutto se vogliono lavorare con me potrebbero dover garantirmi che hanno almeno uno standard vicino a quello che ho io ma non soltanto io e questo lo chiede ormai la giurisprudenza per questa tipologia di reato io devo poter andarci dentro cioè fare delle attività di audit delle attività di controllo preventivo e successivo in tema di qualifica del fornitore diremmo noi quindi una qualifica del fornitore che diventa una qualifica organizzativa non più una qualifica di hai il dur guida con dei diciamo con con dei risk assessment esterni delle attività di risk assessment esterno si riesce a capire se diciamo il rating di legalità che adesso per dirla così di questo di questo soggetto sotto il profilo del caporalato è accettabile come rischio ovviamente poi non potrò controllare ogni giorno questo ovviamente ha una ricaduta su tutta una serie di aspetti perché il caporalato nasconde anche molte volte anche una poca attenzione della sicurezza sul lavoro quindi soggetti che magari lavorano esternamente ma danno un contributo continuo all'azienda che si vuole tutelare e diciamo interagiscono tutti i giorni anzi magari hanno delle funzioni delicatissime dal punto di vista della della salute della salute e sicurezza in tutto ciò per complicarci ancora di più la vita secondo me dal punto di vista di forma sostanza organizzazione in questo caso organizzazione esterna e c'è il tema che oggi non avremo tempo di affrontare se non poi nel dibattito perché immagino visto che alle 5 dobbiamo chiudere e dialogheremo un attimo ci saranno delle sollecitazioni evidentemente sul tema dell'organizzazione di un gruppo perché noi non possiamo da un lato la 231 e questo è molto interessante è totalmente differente dal diritto commerciale in senso stretto perché lavora sul concetto di monade cioè il modello organizzativo è di quella società e deve essere di quella società ogni società del gruppo deve avere il suo organismo di vigilanza anzi magari non devono neanche essere gli stessi soggetti salvo in alcuni casi eccetera ci deve essere un dialogo metodologico eccetera ma lavora come monade quindi bisogna già diciamo ragionare interrogarsi se quei gruppi che ci sono in Italia che costruiscono un modello organizzativo di gruppo sono compliant con la logica più penalistica se volete del decreto 231 ma se è vero che diciamo sono delle monadi oramai la giurisprudenza dice sì sono delle monadi ma non per questo non ci devono essere per esempio dei flussi comunicativi informativi tra le varie società soprattutto quando questo mi sembra un tema veramente poco trattato molte attività delle società per esempio sotto un a capogruppo sono svolte dalla capogruppo in service come spessissimo accade magari in un service misto in un service in cui una parte viene diciamo una prima selezione di fornitore nella procedura acquisti fatta in ambito alto e poi la seconda parte è fatta sotto ecco come costruire dei modelli organizzativi che sono monadi ma che devono comunque tenere in considerazione questa dinamica come devono agire gli organismi di vigilanza che devono solo vedere il loro pezzo di competenza quando è frammentato tra un'attività di service e un'attività diciamo interna o devono poterla apprezzare da due sguardi diversi ma nella loro piena complessità questo è un tema anche dal punto di vista teorico oggi io sto facendo un po' diciamo il lato empirico ho lasciato a Tommaso la parte un po' più aulica eccetera però è un tema anche da un punto di vista teorico assolutamente assolutamente straordinario che poi chiama in causa di nuovo il tema dell'internal audit perché anche qui adesso non ci complichiamo la vita ma in questi gruppi ci possono essere degli internal audit sulle singole città o molto spesso un internal audit di gruppo e questo fa la differenza rispetto a questo tipo diciamo di di organizzazione insomma diciamo non è che ho voluto dare ma è un dialogo oggi Guido non è che ho voluto dare tante soluzioni qualcuna diciamo ho cercato di darla ma forse trasmettere più che altro dopo la redazione di Tommaso Fabri che ha fatto capire come bisogna anche avere introitati questi concetti di organizzazione più economica che non sono tipici di noi giuristi eccetera c'è capire come per il penalista anche no quale sei anche tu Guido eccetera sia un terreno straordinario un terreno diciamo anche da un punto di vista speculativo oltre che pratico tutto ancora da costruire da immaginare da trovare soluzioni non ce ne sono nel nostro mondo ancora terreni così dove poter anche con creatività se vogliamo dire si possa diciamo ancora 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 ragionare io mi fermerei qui che sono le 16.40 però ecco se riusciamo ancora a dialogare anche con i nostri con il nostro uditorio se c'è perché noi non vediamo nessuno quindi può anche essere che siamo solo noi grazie vedo solo io ma non vedo l'uditorio vedo le domande in chat l'uditorio non lo vedo neanch'io devo confidare sul fatto che esista esatto ma se fanno domande esistono sì no in effetti questo è un buon indizio di esistenza dell'uditorio su questo hai ragione ti ringrazio Luca a tua volta per la bellissima relazione soprattutto per la chiosa finale tu dici non ci sono soluzioni nel nostro mondo né noi ne vogliamo perché i dialoghi devono porre sul tappeto tutta una serie di problemi su cui riflettere se portassero soluzioni ci piacerebbe vincere facile e a noi oggettivamente non piace vincere facile eh provo a selezionare approfittando della vostra presenza questi ultimi dieci minuti una domanda per uno tra quelle che pervengono sulla chat eh alla sottosegretaria è stato chiesto state pazienza ma io non leggo più una risposta alle crisi aziendali sono le imprese rigenerate in forma cooperativa che vedono gli ex dipendenti diventare soci il governo intende supportare queste nuove aziende che potrebbero nascere e diffondersi sempre di più alla fine di questa emergenza sanitaria buonasera eh dunque la risposta è assolutamente sì in realtà abbiamo eh già ehm provveduto ad integrare eh con alcuni miglioramenti l'ex legge la legge marcora eh per i workers buyout è assolutamente una soluzione auspicabile eh quella dei lavoratori e lavoratrici che decidono di eh poter eh appunto continuare a proseguire eh la l'attività di azienda rilevandola eh attraverso l'utilizzo della Naspi e un'altra serie di misure appunto di tipo eh agevolato ehm perché eh appunto in forma cooperativa a volte la la prosecuzione dell'attività d'impresa eh è stata già eh come dire eh felice soluzione di alcune crisi ehm dunque è uno strumento che vogliamo continuare questo a potenziare non solo per la soluzione di crisi d'impresa ma anche per esempio per risolvere un altro grande tema che è quello delle successioni talvo eh come sapete le nostre imprese spesso hanno una dimensione eh familiare eh sono a conduzione familiare talvolta non eh gli eredi non decidono decidono di cambiare mestiere rispetto ai padri e dunque anche in questo caso eh la costituzione di cooperative tra i lavoratori o anche i livelli del management eh ovviamente eh può eh aiutare a nella nella prosecuzione dell'attività dunque è un qualche cosa su cui assolutamente vogliamo continuare ad investire anche con ulteriori misure e semplificazioni di tipo normativo Sottosegretaria la ringrazio anche perché mi hanno appena scusato dalla regia dicendomi che ci deve lasciare per problemi istituzionali le chiedo scusa di averla sequestrata per questa domanda non avevo preso atto di questo grande piacere la ringrazio per la presenza e mi scuso per la gara grazie a voi grazie 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 buonasera professor Fabri dunque qui si parte dal presupposto che può anche essere corretto che covid-19 abbia modificato per sempre i cicli di vita organizzativi di un'azienda non so se in questo caso la parola per sempre abbia senso ma insomma assumiamola come presupposto del ragionamento e quindi ci si chiede e le si chiede se per il futuro le unità di risk management saranno sempre più al centro delle scelte decisionali che le aziende dovranno prendere nella loro quotidiana operatività non so rispondere perché questo collegamento fra diciamo lo sparigliamento post-covid e il risk management è possibile tornare alla platea per un chiarimento oppure no perché se no io vedo solo la chat non riesco a parlare con la platea cioè credo però che per come è formulata la domanda sostanzialmente accenda i riflettori sul covid e metta al centro della scena i rischi che il covid sostanzialmente ha portato forse anche le consapevolezze in materia di rischio nella conduzione dell'azienda che il covid ha portato e penso che il concetto di unità di risk management venga fuori perché in questo periodo tanto si è parlato di questo concetto e più in generale di queste materie collegando però tutto questo a quella che era un'eccezione cioè la pandemia quindi diciamo risk management non solo sanitario ma in sensolate quindi l'idea che l'organizzazione possa conoscere come dire una accelerazione e un upgrading rispetto alla capacità di gestire rischi alla luce di questa grandissima emergenza che ha dovuto tollerare sì probabilmente probabilmente sì allora va bene allora ne approfitto per commentare su questa domanda e precisare una delle numerose interessantissime cose che ha detto Luca sì allora ovviamente l'intervento che facevo io che ho fatto faceva un po' leva sul concetto di predeterminazione per far vedere anche un altro lato della questione ma è ovvio che in una idea processuale di organizzazione tutto ciò che è predeterminabile è importante cioè si salva tutta la razionalità possibile fino al momento in cui fino al punto in cui la predeterminabilità è possibile dopo la differenza che si riconosce che non è esaustiva quindi che oltre un certo punto non si riesce ad arrivare allora in questo senso io credo che come dire le promesse del risk management siano anche diciamo aumentato dell'intelligenza artificiale siano comunque promesse leggibili sempre in questa luce cioè da un punto di vista irrazionalità limitata non ci sarà mai un livello di conoscenza se non in casi particolari tali da consentire di fare una predeterminazione esaustiva ecco cosa succede però dopo come si chiedeva cioè l'idea che l'idea che il modello vada continuamente aggiornato ad esempio questa è una possibile soluzione al fatto che c'è una dinamica che non si riesce a fotografare e a risolvere una volta per tutte il modello iniziale ecco diciamo l'idea l'idea di teoria organizzativa processuale e l'idea di razionalità limitata suggerisce anche un'altra cosa aggiuntiva rispetto a questo all'adeguamento del modello suggerisce anche di che è diciamo la ricerca della soluzione cioè il modello giusto e quindi giustamente manutenuto è tanto importante quanto la ricerca di un processo di ricerca di soluzione cioè alla razionalità cosiddetta sostanziale questi sono due concetti che Simon introdusse nella sua lezione magistrale quando gli dedero il Nobel una cosa successa nel 1979 cioè all'idea della razionalità sostantiva cioè la soluzione ottimale il modello definitivo c'è anche un'idea di razionalità procedurale cioè la razionalità non me la gioco tanto nell'individuare il modello finale rispetto al quale essere compliant ma me la posso giocare anche nel cercare e se vogliamo in chiave di odita anche dimostrare rendermi accountable sulla razionalità che dispiego a valle del modello anche se il modello non l'ha prescritta anche se non necessariamente addivenisse a delle modifiche tecnico-strutturali del modello quindi diciamo è come dire è come dire un avvicinamento all'azione che secondo me può essere intriso di razionalità con anche confini giuridici diciamo e su questo se posso Guido perché è molto interessante certo certo tanto è vero quello che ci hai appena detto Tommaso che per esempio anche nelle costruzioni diciamo dei modelli degli ultimi vent'anni si è andati verso dei modelli 2-3-1 dico molto più asciutti proprio perché alcune cose non devono essere nel modello che non può essere manutenuto tutti i giorni quando parlavamo del forse una volta all'anno e quindi pensiamo anche al tema delle procedure dieci anni fa c'era ed è una follia che nel modello ci siano dentro le procedure le procedure devono stare a un livello proprio perché hanno una caratteristica anche di manutenzione in quel caso davvero continua potrebbe essere ma al di là della procedura quello che dicevi te c'è tutto quell'aspetto che non può stare nel modello ma è nella nella sostanza non nella forma no molto interessante scusami Guido no anzi Luca ti ringrazio per questa aggiunta chiudo con un'ultima domanda che a questo punto provo a filtrare perché è un poco farraginosa e se possibile rivolgerei ad entrambi per una battuta finale dal rispettivo punto di vista anche a prescindere da covid diciannove professori e quindi dalle spie in materia che covid diciannove ha acceso anche sul piano delle suggestioni il concetto è di fatto lo dicevate entrambi è un percorso lungo questo se ragioniamo di Mog è un percorso che ormai ha compiuto vent'anni tante sono le riflessioni che sono state fatte in materia tante sono le riflessioni in chiave problematica che sono state fatte in materia alla luce di tutto questo secondo voi è ancora attuale o anche solo è ancora opportuna la facoltatilità in diritto del Mog dove vedo io come vuoi è una facoltà non facoltà già oramai soprattutto sicuramente la scelta io questo ci credo la scelta del 2001 comunque è da difendere perché comunque a livello internazionale non ci sono esperienze così positive in fondo come la nostra sia nella costruzione del decreto lasciamo stare l'aspetto processuale ma già solo l'organismo di vigilanza non ce l'hanno per esempio gli spagnoli che sappiamo hanno copiato per esempio la nostra 231 hanno un compliance officer interno ci sono tutte delle cose quindi già e in più molti paesi sostanzialmente puntano tutto sulla chiave remediale ai stessi Stati Uniti la stessa Francia c'è l'idea che quando succede qualcosa poi c'è il cambiamento costruisco un modello di rimedio successivo magari faccio poi la trattativa col public prosecutor per chiudere eccetera invece difendere questa idea comunque della prevenzione siccome è molto importante e ripeto dopo 20 anni poi dipende dalle realtà territoriali però diciamo io la trovo quasi oramai cogente anche nel momento in cui non lo è da un punto di vista strettamente normativo sicuramente per agganciarmi e poi chiudo alla tua domanda quelle proposte che ci sono state negli ultimi anni di escludere dalla 231 le piccole medie imprese le trovo le più pericolose perché paradossalmente sono proprio le medie imprese che hanno bisogno forse di sì dal punto di vista di cogenza del modello 231 perché un'azienda quotata un'azienda multinazionale ha già tanti presidi che prevengono tutta una serie di rischi è proprio l'azienda molto asciutta e molto piccola che non ha tutte quelle altre normative e dunque almeno il modello 231 beh io sono d'accordissimo anche questo sto nel mio confine però nella teoria organizzativa ci sono colleghi che quando si accorgono che per esperienza diretta perché ovvio stiamo parlando di diciamo di itinerari intellettuali che ovviamente risuonano tra i libri e quello che si vive quando si accorgono che la predeterminazione non è esaustiva sono tentati dal buttare tutto a mano quindi da da fare il salto sulla sponda opposta e dire beh ma allora perché lasciamo tutto alla ragionevolezza contestuale ecco io credo che questo sia un errore perché si butta via tutto quello che io posso predeterminare cioè formale e informale hanno bisogno l'uno dell'altro allora se da un lato all'inizio evidenziavo la pretesa di una certa argomentazione giuridica che io conosco di far prevalere il formale dimenticandosi dell'informale o lasciandolo come dire agli esecutori ecco secondo me altrettanto per il contrario cioè l'informale ha bisogno di formalità se no si perde e quindi per me io lo riconfermerei ecco non lo renderei una cosa facoltativa e sono pure d'accordo sul fatto delle piccole medie imprende perché lì probabilmente qualche paletto qualche qualche sforzo limitato a ciò che nell'esperienza e nella logica si può rivelare oggettivamente razionalmente strumentale rispetto a quel risultato prevenzionistico secondo me andrebbe tenuto chiarissimo chiarissimo ci sarebbero altre domande ma insomma l'ora è tarda e capisco che non posso approfittare più oltre della vostra presenza con noi io posso solo nel concludere ringraziarvi per avere davvero dialogato tra voi e con noi e credo come dicevo prima Luca in risposta alla tua affermazione sulla base della quale non esistono soluzioni per avere al di là della battuta messo sul tavolo tutta una serie di temi che si annodano e in certa misura si fondano tra loro e ci permettono di comprendere questo credo che sia un messaggio importante quest'oggi che soprattutto in questo nostro così complesso mondo moderno la cultura giuridica non possa più avere ad oggetto unicamente il diritto perché evidentemente l'attualità questo oggettivamente non lo permette più e probabilmente è qualcosa di cui anche i pratici del diritto io pratico del diritto noi pratico pratici del diritto qui giunti dovremmo necessariamente sempre più prendere atto nel prosieguo grazie ancora grazie professor Fabri grazie professor Luparia per essere stati con noi grazie e buona serata a tutti grazie grazie arrivederci a tutti buonasera grazie a tutti grazie a tutti